Allora, siamo qui, ok, posizione di guardia, esatto, allora, una cosa, spesso avete difficoltà Da qua, giusto? Perché lui è molto chiuso, perfetto, da qua guarda cosa faccio, apro, dentro, ritorno, faccio spazio, esatto, da qua, porto giù e apro, apro subito la mia bella presa profonda, ok, lui ritorna, ok, esatto, da qua, esco, ri-chiudo, ripeto, se mi dà fastidio perché ci sta questo gomito qua, Sempre il stesso principio, guarda, apro, entro sotto, apro, perché, ritorno, ok, da qua, il bavere lo porto, lo blocco, ok, appena lui sta in postura, esatto, stessa cosa, apro, porto giù, esco, prendo, ritorno, strangolo Cosa succede però? Mentre sto qui, che vado a passare il bavere, qualcosa va storto, lui va in postura e mi blocca a suo braccio, esatto, ok, potrebbe succedere Quindi sto qua, passo, diciamo che, come mi ha bloccato lui, no, perché io, quando vado a prendere, vado a sto lato, quindi blocco, però potrebbe succedere che, appena vado a passare, lui va in postura, ecco, dovrebbe passare questa cosa qua Allora, guardate qua, sacrifico questa presa, da dentro, vado a prendere il timono con quest'altra mano, ok, da qua, uno, due, blocco il braccio Ok, qua, da qua, piede, blocco, così lui non può ricoprire questo, e aggancio Mano Bocca loca Che obbligata, aspetta, rifa, rifa Ok, quindi sto qua Ho passato il bavere, ok Quindi da qua Esco lateralmente e vado a prendere Quando sto passando, lui blocca Ok, esatto, magari in questa posizione, da qua Sacrifico la mano da dentro Vado a prendere il timono Da qua Braccio da quest'altro lato Kimono in basso Ok, quindi da qua Qua Inchiudo il braccio Ok, da qua Incrocio Chiudo Esco Ok, blocco qua In questa maniera Piede sopra Mano, passo Da vado a prendere il braccio Da vado a prendere il braccio Ok, quindi blocco in questa posizione Fia da Così non può recuperarlo Sì O perlomeno se lui lo recupera Esatto Vedi, deve fare questa cosa Quindi Per evitare Lui può solo tirare indietro Esatto Però, che cosa fa? Io siccome lo so che può andare in quella direzione Mi metto il piede dietro Qua E lo blocco Da qua Scalo 1 2 3 3 Un cavo rettato Qua Ok Chiaro? C'è figata L'avevo vedere qua? Sì Mi è piacere Umberto Sto qui Ok Ok Quindi Porto già coperto Tanto questo ho visto che avete fatto molto bene Ok Quindi sto qui Ok Ho passato il kimono Ok Quindi da qua Boom Posto Giro Vado a fare questo Lui dipende Esatto Col braccio Eh, così Esatto Da qua Sacrifico la presa Prendo Braccio a quest'altro lato Giù Blocco qua Paletto dietro Aggancio Piede sopra la sua spalla Isolato il braccio Certo Da qua Abbraccio Passo Mantengo sempre questa presa finché non passo la gamba Una volta che ho passato la gamba lascio E vado qua Ok? Ok 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 Ok